è il primo incontro il 7 novembre 1970 sul ring del palazzo dello sport di roma erano tutti tutti e due alti uguali per un peso medio abbastanza buono aveva un ottimo destro eh si non ce l'ha fatta nino benvenuti a rialzarsi terribile destro dritto di monzon lo ha inchiodato in un angolo ed è stata una sconfitta dolorosa tra l'altro una sconfitta che ha avuto un incontro di rivincita che sarebbe stato meglio non ci fosse stato e poi sapete quello che è successo a monzoni ero soltanto a un incontro di distanza per rompere il record di monzon e penso che sia stato uno dei migliori pesi medi siamo sul ring del palazzo dello sport di roma ed il 7 novembre del 1970 nino benvenuti che aveva riconquistato il titolo mondiale nel 1968 battendo emil griffith nella terza sfida sul ring del madison square garden di new york difende il titolo contro l'argentino carlos monzon match durissimo fin dalle prime riprese per benvenuti che aveva probabilmente sottovalutato l'avversario immagini dell'undicesima ripresa e adesso si passa al dodicesimo round carlos monzon aveva le misure di un medio massimo colpi dritti gran pugile nino benvenuti nella fase calante di una carriera brillantissima ma anche molto lunga ecco il destro dritto di monzon e nino benvenuti crolla al tappeto non ce la farà ed è k.o. alla dodicesima ripresa c'è un tifoso che sale sul ring ma niente da fare carlos monzon il nuovo monarca dei pesi medi ecco qui ci ripropongono le fasi conclusive e il destro dritto ecco questo è il destro terribile che ha chiuso definitivamente la prima delle due sfide ci sarà poi un incontro di rivincita ecco qui riproposto da un'altra angolazione nel conto di rivincita praticamente inutile svolto sia a monte carlo qualche mese più tardi e concluso con la facile vittoria di monzon grazie a tutti grazie a tutti